Ora passiamo alla colonna ionica. Allora questo è un fusto di colonna ionica che abbiamo visto nel primo video come fare con i 6 triangolini per la base. Allora la colonna ionica ha sia la base che il capitello. Allora la base possiamo farla usando dei cerchetti, dei piccoli cilindretti di cartone di queste dimensioni. Allora il primo cilindretto va fatto un po' più largo rispetto al diametro della colonna. Il secondo che sarebbe quello che sta tra i due l'ho fatto dello stesso diametro della colonna e il terzo un po' più grande. Quindi sono ognuno più largo. Allora il più piccolo è largo come la colonna. Gli altri sono ognuno di 2-3 mm di diametro di più. Allora li incolliamo in questo modo. Il più grande in mezzo il più piccolo e sopra quello intermedio. Sempre in modo che siano concentrici quindi che abbiano il centro sempre nello stesso punto. Allora in questo modo abbiamo fatto la base della nostra colonna che va bene sia per quelle ioniche che anche per quelle corinze. Si può fare uguale. Se avete il cartone della pizza potete trovare già dei cerchetti fatti però questi qui hanno uno spessore un po' sottile e quindi per fare uno di questi elementi li ne incolliamo due fra di loro. Questo può essere il nostro primo pezzo della colonna. Li incolliamo fra di loro in modo da avere uno spessore di circa 2 mm in modo che lo spessore totale della nostra base sia circa 6 mm. 2 più 2 più 2 più 2 è 6. Allora e poi lo possiamo incollare al fusto della colonna dove avevamo i nostri triangolini che ci aiutano a tenerlo incollato. Qua possiamo premere dentro con una matita in modo da incollare bene una matita o un pennarello o qualsiasi cosa che possa essere abbastanza lungo da entrare dentro la colonna aiutarci a premere bene in modo che i triangolini si attacchino alla base. Poi dobbiamo fare il capitello. Allora il capitello ionico ha le volute. Allora le volute le possiamo fare di varie dimensioni perché non c'era una dimensione standard. nei tempi più antichi erano più voluminose, nei tempi classici invece hanno una dimensione più contenuta come questi che ho fatto io. Allora questo è molto semplice da fare. Si può prendere un pezzo di cartone, ad esempio questo del cartone di una pizza per fare la parte delle volute e poi un cartone invece un po' più spesso, quindi può essere questo raddoppiato, un po' più stretto per fare questa parte sopra dell'abaco e la parte sotto tra le volute. Allora facciamo prima le volute. Io per fare una dimensione di queste volute avevo già fatto una prova quindi so che devo fare tre centimetri e mezzo di voluta, un centimetro e mezzo invece è questa dimensione della colonna, quindi rimane piatto e poi altri tre centimetri e mezzo di voluta, quindi li possiamo tagliare qui così. Allora se avete notato io il cartone, questa striscia va nella direzione delle pieghe del cartone e quindi mi aiuta adesso a curvare il cartone per fare la voluta. Se invece lo tagliavo nel senso della lunghezza come questo, vedete che ci sono le righe, non so se si vedono molto, in questo caso sarebbe più difficile da curvare, invece se io ho già un po' il cartone piegato in questo senso è molto più semplice. Allora io qua mi giro il mio cartone in modo da formare la voluta, mi fermo quando arrivo qui più o meno sul segno che mi ero fatto e faccio lo stesso dall'altro lato, quindi giro la mia voluta su se stessa, la avvolgo, un po' alla volta il cartone è abbastanza sottile però è un po' resistente ovviamente. Allora quando abbiamo avvolto le volute adesso possiamo passare al lecchino del capitello. Allora questo io l'ho fatto grande come la colonna, quindi un centimetro e mezzo se avete colonna di dimensione diversa ovviamente sarà un'altra dimensione. Allora facciamo dei quadratini di queste dimensioni, poi questo che sarà il nostro abaco lo teniamo quadrato, invece quelli che mettiamo sotto li smussiamo agli angoli in modo che vengano più simili alla forma circolare della colonna. Allora incolliamo questi due tra di loro poi li incolliamo al centro delle volute e adesso mettiamo la colla qui abbiamo piegato il cartoncino in modo che adesso sia facile da fare le volute, ci mettiamo la colla e rifacciamo le volute che adesso rimarranno incollate. mettiamo anche un po' di colla qui di lato per fissare poi la voluta all'ecchino. Allora adesso riavvolgiamo la voluta su se stessa con la colla e quindi rimarrà adesso fissa. Non occorre tanta colla perché vedete che poi anche tende a uscire. ed abbiamo fatto il nostro capitello con le volute. Adesso ci manca solo di aggiungere l'abaco sopra e poi è finito. Aspettiamo un attimo che si asciughi. Comunque vedete sono venute due volute. Adesso attacchiamo il nostro abaco e poi lo possiamo incollare sopra. Allora anche qui potevamo lasciare di triangolini per l'incollaggio ma tanto non è che abbia una dimensione così grande e si incolla abbastanza facilmente il capitello. Ecco abbiamo fatto la nostra colonna la nostra colonna ionica completata con capitello e base. Grazie.